Si chiama Jesse Black, è stata picchiata con grande violenza dall'uomo che amava l'afferata per la testa e l'ha fatta sbattere in modo ripetuto nel pavimento per poi romperle addirittura la scena ed anche i detti. Ragazza così di nazionalità australiana ha dovuto subire purtroppo di cose, delle operazioni chirurgiche e dopo l'aggressione ha riscontrato tanti problemi di salute. Adesso la condizione che si trova a vivere è per fortuna migliorata, però i denti non sono più presenti nella sua bocca e ciò ovviamente le rega un problema a livello psicologico e fisico. A Jesse 9 denti mancano complessivamente, non ha i soldi per fare degli innesti e l'aspetto che mostra a livello estetico non è ovviamente dei migliori perché purtroppo ha questi denti che ripeto le mancano. Vi ringrazio per l'ascolto, il 27 febbraio tuttavia si opererà ed avrà di nuovo un sorriso nuovo, anche se la situazione personale non credo che sarà delle più positive. Iscrivetevi se volete, commentate e un saluto a voi tutti.